Oggi parliamo di Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e vi pongo un cordiale benvenuto in questo nostro appuntamento settimanale in cui, come sapete, si parla di libri. Ho scelto per oggi un libro famosissimo che credo non vi aspettiate di trovare in un ciclo di puntate dedicato alle grandi storie d'amore. Vi ho annunciato la settimana scorsa che avremmo parlato di Dracula, Dracula e il vampiro, il romanzo di Bram Stoker. Si tratta di un romanzo ottocentesco, tipicamente vittoriano. In realtà, poi andremo a parlare della storia d'amore che intendo proporvi, ma prima alcune notte sul libro. Cercherò di essere brevissimo perché, come sapete, poi mi trovo in debito il tempo nel momento cruciale in cui sono finalmente arrivato a parlare delle cose che mi interessano, però un'introduzione credo che sia necessaria. Più che altro per dire che Dracula, riletto oggi, io l'ho ripreso in mano quest'estate per ricominciare a preparare questo ciclo di puntate, ci si rende conto che è un romanzo sorprendentemente moderno. Questo è anche curioso perché è scritto in realtà in uno degli stili più antichi con cui possa essere scritto un romanzo, e cioè un romanzo epistolare. Voi sapete che i primi romanzi dell'epoca, diciamo pure moderna, nascono come romanzi epistolari. Dracula si presenta come un aggregato, ecco, di brani di diario, scritte da vari protagonisti, lettere che i vari protagonisti si scambiano o che scrivono ad altri che non compaiono mai in scena, telegrammi, addirittura relazioni d'affari, contratti, insomma un coacervo di materiali che però sono sempre materiali scritti. Non c'è mai, diciamo per esempio, un dialogo se non in quanto è raccontato da un personaggio che ne scrive a un altro e dice ero in quella situazione e il tale ha detto. Non c'è mai perciò il punto di vista, si dice in senso moderno, del narratore onnisciente che sta dietro le spalle dei personaggi e racconta quello che fanno. Quello che noi abbiamo è sempre ed esclusivamente il punto di vista di uno dei protagonisti del romanzo e questo è, diciamo, una cosa piuttosto sorprendente e anche meritoria in un romanzo di tanto tempo fa perché questo è uno stile di scrittura modernissimo, contemporaneo. Così come il cambio continuo di località in cui è ambientato il romanzo che apparentemente si svolge quasi tutto a Londra, però in realtà poi c'è un pezzo che si svolge in Transilvania, c'è di nuovo un altro pezzo nel continente, più o meno fra i Carpazzi e così via. E poi anche a Londra cambiano continuamente, si passa dai quartieri ricchi ai quartieri più miserabili, dalle dimore principesche ai manicomi, per cui una varietà oltre che di punti di vista di ambientazioni che è molto notevole e che francamente magari uno, anche pensando a certi adattamenti cinematografici, non si aspetta. Venendo però alla storia d'amore, che è quello che ci interessa di più in questo ciclo di puntate, ci colleghiamo in qualche modo con una cosa che vi dicevo la settimana scorsa a proposito di orgoglio e pregiudizio. Vi ricorderete che vi ho detto che orgoglio e pregiudizio per alcuni aspetti si presenta come una sorta di catalogo di storie d'amore diverse, di diverse impostazioni e così via. Qui, ugualmente, in realtà non c'è una sola storia d'amore, ma ce ne sono diverse. Soprattutto perché ci sono due protagoniste femminili, ciascuna delle quali ha una sua storia, e una, a dir la verità, neanche più di una. Nel senso che una delle due protagoniste si chiama Mina e la sua storia d'amore è quella che il suo fidanzato è lontano, è partito per affari dall'altra parte del mondo, possiamo dire pure, perché è andato in Transilvania, fra i Carpazzi, perciò dall'altra parte d'Europa, è un luogo che per l'Inghilterra era assolutamente esotico. Questa è una storia d'amore, possiamo dire, pura, nobile, sentimentale, due fidanzati separati dalla distanza, separati alle necessità di lavoro, che aspettano che lui possa tornare finalmente, diciamo, ricco, sistemato, comunque professionalmente affermato, per poter finalmente coronare il loro sogno d'amore. A fianco c'è la storia della migliore amica di Mina, che si chiama Yussi, la quale, invece, è una ragazza forse anche di origini un po' più nobili, un po' più ricca, a tre ricchi pretendenti. Un americano, anche qui c'è la modernità e il romanzo, che segnala il sorgere della potenza americana, per cui ricchi ereditieri o ereditiere si recavano a Londra, provenienti dall'altro continente, per, diciamo, socializzare, per affermarsi, per ripulire il loro stile di vita. Venivano alle praterie, invece, a Londra acquisivano quella patina di rispettabilità, possiamo dire. Ecco, per cui, uno dei pretendenti di Yussi è un ricco americano, l'altro è un affermato dottore, uno scienziato, un uomo di saldi principi e di, diciamo, intelligente, ricco di personalità culturale, e il terzo è un lord, per cui, insomma, Yussi ha di che scegliere. La cosa interessante è che qui c'è tutta una nobiltà, perché i tre amici non saranno divisi dalla scelta che farà Yussi, lei ne sceglierà uno di loro, ma tutti e quattro rimarranno estremamente fedeli, inizialmente, gli uni agli altri. Su queste storie d'amore, su cui poi, tra un attimo, torneremo, precipita, come una specie di valanga, di sciagura naturale, la presenza del conte Dracula, che è l'antagonista di questa storia. Ma vi racconterò meglio cosa vuol dire questo. Dopo una pausa musicale ho scelto, perché tutto il romanzo, in fondo, parla della fascinazione del male, perciò ho scelto il gruppo rock che, per eccellenza, ha trattato questo tema, e cioè Rolling Stones con Satisfaction. Questa era Satisfaction dei Rolling Stones, una canzone che, in fondo, dicono i critici, tratta della suefazione da droga. È un tema che, per il clima culturale in cui è stata scritta, e anche un po' per l'aria che i Rolling Stones hanno sempre voluto darsi, lo stile con cui hanno voluto accreditarsi, è piuttosto credibile. E, d'altra parte, è molto adatto a questo romanzo, perché, in fondo, il conte Dracula è un po', se mi permettete, come l'eroina. Cioè, io vi ho descritto una situazione di grande rispettabilità sociale, di grande nobiltà di sentimenti, una situazione in cui i vari protagonisti vivono un amore che è, normalmente, un amore puro, se vogliamo. Anche se, nel caso di Giussi, certamente c'è un po' una dimensione più da matrimonio di interesse, o comunque, nella considerazione con cui si affronta il discorso dell'amore, tutta una serie di motivazioni che possono essere più di calcolo, diciamo, che non di puro sentimento. Succede, però, che il conte Dracula, che è colui che, in realtà, ha convocato Jonathan, cioè il fidanzato di Mina, perde gli affari in Transilvania, ha una sorta di fascinazione per Londra, fa parlare il suo ospite continuamente di ciò che ha lasciato nella grande città. Dovete pensare che Londra era, all'epoca, senz'altro, la città più importante del mondo. E, perciò, a un certo punto, il conte lascia il povero Jonathan, un prigioniero nel suo castello, e lui, sotto una sorta di falsa identità, che in qualche modo si è costruito apprendendo delle cose attraverso i colloqui con Jonathan, lui si recca, in una maniera rocambolesca, avventurosa, eccetera, a Londra, dove comincia, possiamo dire pure, a infettare la città. Ci sono i critici che vedono in Dracula un po' una metafora della malattia, o anche alcuni che ne vedono come la metafora dell'invasione da parte degli stranieri. Ecco, la cosa interessante è che questa infezione che si diffonde nella città di Londra è un'infezione che riguarda principalmente i suoi abitanti femminili. Sia Agliussi che Mina soccombono al fascino del vampiro e ne vengono contagiate anche nella metafora del romanzo perché rischiano di diventare vampire, ma è facile cogliere fra le righe l'idea che in fondo Dracula rappresenta una dimensione sensuale, una dimensione di sessualità scatenata che contrasta con la morale dell'epoca. Allora, è interessante leggere questo romanzo come dibattito, molto moderno, ripeto, perché è del tutto privo di quei tabù, di quelle ipocrisie che noi siamo abituati ad attribuire all'epoca vittoriana, fra ciò che è veramente l'amore. Un contratto fra due entità, un'unione spirituale di cuori, oppure un soccombere a delle emozioni irresistibili. Il romanzo ce le propone tutte e tre, fa la sua scelta, ma in realtà dentro un romanzo di avventura ci fa anche pensare e credo che questo sia la cosa più importante. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento alla settimana prossima. Come sapete, oggi parliamo i libri, va in onda il giovedì alle 19.10, in replica il venerdì alle otto e mezza del mattino. Come al solito, nell'attesa che noi ci rivediamo, vi auguro buone letture, a risentirci alla settimana prossima. Grazie a tutti per aver guardato. Grazie a tutti.